La vittoria in Coppa contro la capolista del Girone B ha dato entusiasmo ai giocatori, ma il rendimento è diametralmente opposto in campionato. Riusciranno gli ospiti a vincere o Cola segnerà l'ennesimo gol decisivo. Giovo d'Olasiana Il pareggio infrasettimanale nella partita di Coppa ha parzialmente cancellato la sconfitta in campionato, ma per andare ai play-off serve ritrovare i tre punti. I Granata però non sono della stessa opinione. Mezzo Corona San Rocco La capolista continua a vincere e lo fa anche nelle sfide più complicate. In questi 90 minuti la pressione sarà minore. I Roveretani sperano in un calo di concentrazione degli avversari per fare il risultato. Mezzo Lombardo la Romere I bianco-azzurri stanno vivendo una stagione a rendimento alterno e confermano le difficoltà in zona gol, mentre i gialloblu stanno segnando a raffica. Saranno gli attacchi a fare la differenza? Solandra Cauryol Sfida tra due squadre che navigano nelle retrovie e hanno bisogno di riassaporare il successo per acquisire fiducia. In casa i Solandri hanno sempre fatto fatica. I Neroverdi sperano di ottenere il primo successo. Solteri Paganella Trasferta in cui i gialloblu non possono sbagliare se vogliono continuare a inseguire la capolista. La squadra di casa è sicuramente in calo nelle ultime uscite ma Livio chiede una reazione importante ai suoi ragazzi.